Lo scorso anno fu la volta di Waterfront Roseto, un progetto innovativo con un doppio scopo, valorizzare un territorio rimasto ancora inutilizzato come il terreno delle baracche e riqualificare la zona sud del lungomare a ridosso del sottopasso di via Marco Polo. Quest'anno Abba & Friends ha replicato, presentando in una serata conviviale, due nuovi progetti che andranno ad arricchire l'offerta immobiliare luxury sui territori di Pineto e Giulianova. Presentiamo altri progetti sia su Giulianova, Pineto, Roseto, quindi sono più progetti che presenteremo anche questa sera e speriamo che sono di gradimento riguardo ai nostri già clienti, ai nostri partner che collaborano con noi. Oggi i nostri progetti sono incentrati proprio su quelle che sono le nostre zone, quindi l'Abruzzo costiero è quello dove oggi stiamo operando maggiormente. Tiene il mercato dell'immobiliare di lusso dove, soprattutto a causa della pandemia, ha fatto registrare lievi flessioni nei prezzi, ma resta un mercato che ha chiuso il 2020 in positivo. La terrazza e il piano alto si confermano i due principali elementi che contraddistinguono le richieste di residenze di pregio seguite dalla presenza del giardino, visto che i periodi di lockdown hanno accresciuto l'esigenza di vivere anche gli spazi esterni della propria abitazione. Dunque, un modo diverso di concepire la casa, non più un luogo dove dormire, ma di fatto un nuovo modo di godersi le giornate o la propria vacanza. L'accettazione del mercato è andata oltre alle aspettative e abbiamo una risposta veramente che è quella che ci mantiene molto entusiaste nella ricerca di nuove proposte e nuovi progetti. Non solo investire sul territorio dal punto di vista commerciale, ma credere in questi luoghi scommettendo fortemente sul sociale, in questo caso nello sport. Portiamo avanti un progetto importante con la Pineto Volley in serie A3 e quindi siamo impegnati anche in questo, dove abbiamo un settore giovanile che contano più di 100 bambini e quindi stiamo lavorando anche sullo sport, sul sociale, cercando di ridare qualcosa al territorio visto che il territorio sta dando tanto a noi.